ciao a tutti ciao a tutte allora questo è un video aggiornamento infatti diverso tempo fa io avevo acquistato un dispositivo per oddio la radiofrequenza nu face molto famoso il cui scopo dovrebbe essere quello di sollevare la muscolatura io l'ho usato per un po di tempo l'ho comprato su current body e vi linko comunque il video di quando ho realizzato appunto tutto il vario tutorial anche per voi e poi vi linko anche il video non uso più nu face un video che ci tengo a linkarvi proprio perché in quel mio prodotto vi facevo vedere la mia tristezza la mia insoddisfazione perché perché era un po di tempo che usavo nu face ed avevo iniziato a vedere dei lampi mentre lo usavo e non avevo insomma avuto un'esperienza molto felice con l'apparecchio contrariamente a quanto invece altre persone avevano avuto il punto è che dopo un po dall'inizio dell'utilizzo di nu face io avevo iniziato a vedere più male cosa che poi è progredita nel tempo quindi io avevo subito smesso dopo pochissimo di usarlo questo apparecchio ed avevo pensato la possibilità che potesse anche essere virgolette colpa dell'apparecchio chiaramente non ci sono le prove non è detto affatto che fosse colpa di no face perché io sono molto miope e quindi la la miopia poi capita che possa andare avanti il fatto è che essendo quest'occhio molto miope ha subito un ulteriore come si può dire problema cioè è talmente mi hanno spiegato appunto gli specialisti dai quali sono andata e fra l'altro domani dovrò tornare da uno di loro quindi non so non credo ci saranno notizie particolarmente positive in arrivo per me perché ho già capito che almeno al momento non c'è nulla da fare mi è stato detto che quest'occhio non vede quindi gli mancano tipo più di 20 diottrie per farvi capire e a quest'occhio mancano all'incirca sette e mezzo otto diottrie che sono del tutto corregibili queste infatti io vedo grazie a quest'occhio al mio occhio destro questo non è in grado di farmi vedere diciamo che allunga un po il mio campo visivo perché se io lo chiudo la mia visione si ferma qua se io lo lascio aperto comunque vedo tutto uno spazio intorno a me però non mi fa mettere a fuoco è tutto sfocato tutto grosso e dilatato però non vi voglio annoiare insomma ora cosa succede succede che quest'occhio si è un po come alzato o abbassato ora perdonatevi non conosco i dettagli quindi l'asse visivo si è spostato e sto soffrendo di diplopia vuol dire vederci un po doppio quindi quest'occhio è rimasto pare uguale e questo o è un po salito è un po sceso ora non so per cui le luci gli aloni no chi di voi miope mi capisce bene avete presente quando si vede una luce senza occhiali e voi siete miopi che viene ingrandita tantissimo no ecco praticamente io l'ombra della luce famosa canzone di franco mattiato la vedo qua ecco cioè nella mia visione totale quindi vedo una luce normale e poi vedo il suo eco sopra dilatato sfumato questo mi causa dei problemi cioè assurdi perché di sera quando guido veramente è un tormento anche se riesco a vedere bene però mi causa comunque un fastidio e poi comunque nella vita quotidiana quando devo studiare soprattutto adesso che sono particolarmente stanca stressata con questo cavolo di corso che devo fare per poter lavorare credetemi ma è veramente un tormento credetemi io sono veramente stressata a mille mi dà problemi ulteriori perché quando devo studiare spesso devo studiare al computer o sul tablet io veramente divento matta per di più oppure la presbiopia perché ho passato chiaramente i 40 45 e quindi utilizzo quando riesco questi occhiali da lettura che molto spesso mi metto anche quando sono qui davanti a questa fotocamera con voi insomma la situazione peggiora mi è stato detto signora lei dovrebbe già essere contenta di vedere così perché chi viene diciamo operato per strabismo e quindi chi ha l'occhio proprio ancora più in là rispetto a me se appunto dopo l'operazione vede come dire doppio come lei già deve ritenersi fortunato ragazzi cosa vi devo dire allargo le braccia io questo video ci tengo a dirlo non l'ho fatto per fare la vittima perché non lo sono una vittima ci sono persone che vedono molto peggio di me ci sono persone che non vedono affatto e questo di questo ne sono consapevole quindi ci mancherebbe ancora ma veramente sono fortunata in confronto a tante altre persone e ringrazio il cielo per questo cosa voglio dire però è che vi volevo aggiornare perché molti di voi soprattutto alcune alcune di voi mi continuano a chiedere anche sul mio profilo instagram in direct no come stai perché non ci aggiorni sulla tua situazione della vista sappiate che la situazione sta peggiorando e non è risolvibile al momento con un'operazione perché appunto come mi hanno detto non non si può operare perché non cambierebbe nulla almeno al momento mi hanno detto se peggiorerà allora vedremo se sarà possibile operare e dicono che tenda a peggiorare con l'età insomma la situazione è questa ripeto ci tengo a dirlo non è affatto detto che quello che mi è accaduto sia colpa di new face assolutamente lo voglio specificare quindi voglio solo dire se voi avete una mio più elevata avete problemi di retina di pressione dell'occhio avete già problemi di diplopia magari fate attenzione a non usare l'apparecchio magari proprio sotto in questa zona perché io l'ho usato qui anche del resto i tutorial dicevano che si poteva usare qui però ecco mi raccomando è sempre meglio evitare ripeto magari non c'entra nulla anzi penso che possa essere così la situazione io ho fatto anche una risonanza magnetica alle orbite oculari che non hanno rilevato nessun tipo di problemi alla muscolatura diciamo intrinseca degli occhi delle orbite io però davvero non me ne intendo e poi ho fatto anche una qui ora mi metto in crisi da sola un esame specifico per la retina sia dell'occhio destro che sinistro chiaramente l'occhio sinistro un po di problemi li aveva ora a non vi ho detto questo a una cataratta che sarebbe da operare però mi hanno detto sappia che quando si opera essendo questo l'occhio che diciamo le fa vedere la luce sopra l'altra poi quando ci si opera di cataratta la luce è più potente per cui potrebbe anzi quasi sicuramente avrà un po più fastidio quindi io adesso mi rimetto nelle mani dei medici degli specialisti e sia chiaro io devo per forza fidarmi di qualcuno quindi farò questo sentirò uno specialista veramente bravo della mia zona e vedrò cosa mi consiglierà di fare unica cosa visto che sto facendo questo corso se riuscirò e ci sarà la possibilità di farlo preferirei rimandare per l'estate l'operazione perché adesso devo studiare e se avrò comunque un peggioramento nella vista per queste luci non è il caso se posso aspettare se invece rischio allora no è da fare subito quindi ripeto vi serò informati e vi volevo davvero ringraziare comunque spero che siete davvero tanto carine a chiedermi come va vi ricordate insomma dei miei problemi di vista che ripeto sono quasi sicuramente dovuti alla mia forte miopia congenita io ho scoperto di essere miope all'età di tre anni no scusatemi ho sbagliato all'età di in terza volevo dire in terza elementare quindi ne avevo un po di più di anni però poi purtroppo è peggiorata e sta peggiorando ancora vi aspetto con i vostri commenti lasciatemi i vostri pareri ditemi se anche voi avete problemi di vista se non li avete fatemi sapere come state e se vi è piaciuto il video lasciate un like se vi fa piacere iscrivetevi al canale perché a me fa sempre tantissimo piacere e noi ci vediamo la prossima settimana un grosso bacio ciao